Buongiorno, oggi facciamo le riprese di questo apparato Arana 48 modificato con le solite schede Coltenmeyer con l'ipermodulatore e anche con il bip è una nota. Tra le altre cose ho messo anche un elevatore di tensione che porta la tensione per alimentare il solo stadio di radiofrequenza, cioè finale e prefinale a 17V. Adesso facciamo qualche prova in condizione normale, accendiamo. Sono 11W. Adesso moduliamo. Come potete vedere arriva a 40W. Adesso inseriamo l'elevatore di tensione. 15W. Moduliamo. Passa i 50W, quindi saranno una sessantina di watt. Dobbiamo guardare la scala, quella di centro, da 0 a 50W. Attenzione, brecco! Vedete la lancetta come sbatte il fondo scala. sonda. Sonda da 50W. oooola proviamo un po' la scheda mayor oooola atenzione brecco brecco e questo è tutto buona giornata e grazie per aver visto questo video